Buongiorno, andiamo oggi a risolvere questo problema. Si tratta di l'innesco di un SCR con la regolazione a controllo di fase. L'SCR è un tiristore che ci permette di parzializzare la forma d'onda su un carico, quindi anziché farlo lavorare al 100% e praticamente in tempo continuativo, si va a parzializzare l'onda in modo da utilizzarlo un po' come switching, cioè dove non ci sono cariocchi che devono lavorare sempre alla massima potenza, ma possono comunque fare una sorta di attacco-stacco. Andiamo a vedere il caso più semplice. Qua abbiamo il disegno dove abbiamo l'onda d'ingresso, quindi la tensione d'ingresso alternata, perché l'SCR viene utilizzato proprio per parzializzare un'onda sinusoidale, l'impedenza di carico, qua abbiamo l'SCR e qua al gate dell'SCR abbiamo il circuito di innesco che ci permette di controllare il treno di impulsi, quindi un circuito di trigger. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede alle varie forme d'onda partendo dal tensione d'ingresso. Ecco qua le nostre forme d'onda e andiamo un attimino a ragionare su quelli che sono i dati. Allora, noi qua abbiamo la tensione d'ingresso sinusoidale e qua abbiamo la corrente di gate per innescare l'SCR. Sappiamo che ovviamente quando l'SCR non è innescato, quindi è un aperto, la tensione sul carico ovviamente sarà zero e la tensione d'ingresso sarà tutta ai capi dell'SCR. Per contro, quando l'SCR viene innescato, supponendolo ideale, la sua VAK nodo catodo va a zero e diventa praticamente un filo e tutta la tensione d'ingresso si ritrova ai capi del carico. Quindi devono essere bilanciate queste due cose. Ecco qua che ho scritto quanto ho detto. Inoltre dobbiamo anche ricordarci che l'SCR viene innescato con un impulso positivo sul gate, quindi di corrente sul gate. E quindi anche qua dovremo andare a vedere dove andarla a posizionare. Affinché la potenza sul carico diventa il 25% rispetto al 100% che è la semiondente era positiva, abbiamo bisogno che cosa? Che l'angolo di conduzione, che viene chiamato alfa, si è a 45 gradi. Invece, FI che è l'angolo di innesco, è 180 meno 45, e quindi 135. Quindi andiamo sempre ad operare nel discorso della semiondente positiva. Andiamo a disegnare ora in corrispondenza circa qua. quello che è un angolo di quella corrispondenza, quindi qui sarebbe 180, 90, 135, più o meno in questo punto. E vado a disegnarlo anche nell'altra semionda. Ecco qua, sono andata a posizionare gli angoli. A questo punto vado a disegnare quelli che sono gli impulsi di gate dove devono arrivare, dove e quando devono arrivare. Quindi qua e qua. E vediamo che cosa succede in base a quello che abbiamo scritto alle altre forme d'onda. Allora, qui vediamo prima di tutto la tensione ai capi dell'SCR, la VK. Allora, qua abbiamo la zona in cui l'SCR non è innescato. Quindi quando l'SCR non è innescato, VAK è uguale a VIN. Quindi questa segue esattamente la VIN. E la VL, se vogliamo vedere, anche il discorso è la VL è uguale a 0. Quindi in realtà la VL sarà così. Questa poi la tratteggio così, almeno si capisce che è semplicemente solo un riporto dell'onda d'ingresso. E questa abbiamo detto che invece segue l'onda d'ingresso. Quando arriva a questo punto abbiamo l'innesco, quindi innesco l'SCR e la VAK scende a 0. Quindi qua io avrò in realtà una forma d'onda così, scende a 0 e rimane a 0 fin tanto che col passaggio per lo 0 l'SCR si disinnesca. Quindi qua praticamente avrò così e così. Quindi qui praticamente avrei il tratteggio. Stessa cosa avviene di qua, quindi anche di qua avrò questo, questo e qua tratteggio. Continuiamo a vedere cosa succede qua sotto invece alla tensione sul carico. La tensione sul carico praticamente fa passare quella che non passa sull'SCR, quindi rimarrà questa piccola parte qui. Questa parte, così, così e così. Quindi praticamente sul carico ci sarà solo questa parte qua, che è appunto un quarto di... Adesso tratteggio anche qua sotto. Ok. Con questo l'esercizio è concluso, spero di essere stata chiara. Qua si può notare tranquillamente che appunto andando a dimension... Andando a regolare questi due angoli si può regolare la potenza sul carico. Ci vediamo al prossimo svolgimento.